Quello che devi capire delle antiche leggende è che la storia non è mai finita E tu! È tutta la mattina che batti la fiacca? Sì, ma in teoria io sarei in pausa, perciò... Ho una dozzina di ordini da consegnare, quindi sbrigati e va a prepararti! Viva! Svegliati! Svegliati! Avete ordinato gli spaghetti? E quando avremo quel bastone, sarà inarrestabile! Motivo in più per portare il bastone a remonti e la montagna dei fiori e dei frutti è l'unico posto in cui può essere, vero? In effetti, tuttavia la montagna dei fiori e dei frutti è nascosta Si trova in un territorio pericoloso e sconosciuto Sei solo un ragazzo degli spaghetti che gioca a fare le robe Potrai anche per il bastone di quel vecchio strato, però tu non sei il re! Hai ragione! Io sono Monty T! Viva! 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 Grazie a tutti.